Si è svolta a Palazzo Mezzabarba la conferenza stampa di presentazione di un nuovo servizio che prevede la possibilità per le tabaccherie di rilasciare certificati anagrafici del Comune di Pavia, con evidente vantaggio in termini di comodità per i cittadini. Il progetto nasce da un'intesa tra la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, e il Comune di Pavia. Presenti all'incontro il Sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, l'Assessore al Turismo, Commercio Artigianato e Politiche Economiche, Roberta Marcone, il Consigliere con incarico al progetto Smart City, Roberto Mura, il Presidente Provinciale di FIT Pavia, Gianluca Finardi, e il responsabile per il Nord Italia di Novaress SPA, Paolo Conti. Questo è un discorso di semplificazione per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini e quindi poter avere un certificato dalla mattina presto quando aprono i tabaccai ad arrivare naturalmente quando chiudono, quindi con una possibilità di acquisto di almeno 12 ore. E questo in alcuni casi anche per 7 giorni alla settimana. Ulteriormente c'è anche un'altra facilitazione che se io mi trovo a Milano piuttosto che a Torino o a Palermo e appena partirà tutta l'operazione posso chiedere i miei certificati anagrafici anche in questa città. Quindi semplificazione, risparmio di tempo e di conseguenza andare incontro a quelle che sono le reali esigenze dei cittadini. Quindi abbiamo avuto un modo di interagire con la Federazione Italiana Tabaccai, in realtà importante nel nostro paese. Sono oltre 40.000 tabaccai in tutta Italia che interagiscono per quello che è la loro attività col Ministero delle Finanze, quindi sono un soggetto assolutamente ampiamente certificato. Sono dotati tutti quelli che sono gli strumenti tecnologici necessari, quindi dalla rete di trasmissione date alle stampanti e quant'altro. E quindi con loro abbiamo iniziato questo percorso. Abbiamo iniziato questo percorso che permetterà ai cittadini di pavia di recarsi in tabaccheria ed avere il certificato. Evidentemente partiamo con un primo numero di tabaccherie che poi verrà ampliato nel tempo, ma questo permette, quando mi fanno la domanda rispetto al costo, costa 2 euro che è in linea con quello che sono i costi dei bollettini postali, però immaginiamoci che chi magari sta in città, sta in corso Cavour, non ha nessuna difficoltà a venire in piazza del municipio. Chi magari sta al vallone tra prendere la macchina o l'autos, arrivare, perdere qualche ora, pagare il parcheggio o quant'altro, i 2 euro penso che siano assolutamente ben spesi. Quindi è importante precisare che non è una tariffa comunale, ma è una tariffa di un fornitore esterno che offre un servizio importante che va nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini. Aspetto importantissimo, primo comune in Lombardia, quindi per me è un motivo di particolare orgoglio e anche dal punto di vista, al di là del facilitare la vita dei nostri cittadini, sicuramente permetterà in senso lato di migliorare la qualità dei servizi del comune, perché statisticamente negli altri comuni dove questo servizio è stato attivato, il 50% dei certificati rilasciati dalla tabaccheria. Questo significa sgravare gli uffici del comune di un certo tipo di lavoro e quindi quello che è la struttura comunale può essere messa a disposizione per fornire altri servizi o qualità migliori nei servizi erogati. Come Pavia abbiamo già trovato alcuni che sono disposti ad aderire, hanno accettato con molto piacere di fare questo servizio qua e siamo a disposizione come sempre dello Stato e delle istituzioni come in tante altre situazioni.